Grazie. All'inizio della seduta abbiamo chiesto che fosse votata immediatamente la commissione d'inchiesta sui reati bancari, finanziari. Bastavano un quarto d'ora di tempo per mandare avanti una commissione che potesse far luce sui crimini finanziari e avete coperto questi crimini, votando invece a pioggia questi emendamenti che dall'altra parte incentivano i crimini ambientali. Questa è quest'aula, da un lato le lacrime di coccodrillo verso la morte di eroi che hanno combattuto la criminalità organizzata e dall'altro lato la copertura integrale a qualunque forma di criminalità in questo Paese. Vergogna!